Voilà, questo qua è un piccolissimo video dedicato a Orso Bianco. Ciao Orso Bianco, ho caricato questo video perché l'altro ieri io stavo a Lisbona e ti ho mandato un messaggio dicendo ma c'è qualche cometa in giro, nel senso che in questo periodo sta arrivando qualche cometa che deve venire, che deve passare, ogni tanto si sentono queste comete che vengono e ti ho mandato anche un messaggio dicendo che io insieme a un amico mi sono messo a vedere Saturno e Giove con il telescopio. Allora, io a Lisbona vedo la stessa cosa che ti faccio vedere adesso, ma secondo me è una cometa perché è la stessissima cosa. Ora io te la zoom, te la faccio vedere logicamente è una telecamera. Allora, è la stessa che io vedevo a Lisbona. Adesso, non so se tu riesci a vedere il puntino luminoso, adesso io te lo zoom. Allora, non è una montagna, non è qualcosa che sta su una montagna, beh, in cielo, ed è la stessa cosa che io vedevo a Lisbona. Questo vorrei capire, vorrei capire che cazzo è. Io penso che sia una cometa. Perciò ti ho chiesto informazione a te. Questo è il massimo dello zoom che posso fare, è un 12x penso. E non è qualcosa su un pizzo di una montagna, assolutamente. Ed è la stessa cosa che io vedevo quattro giorni fa, no, quattro giorni fa, l'altro ieri. L'altro ieri che devo mandare un messaggio, dall'altro ieri che la vedo. Logicamente è solo di sera. Voilà. Io te lo sto zoomando, per questo è il massimo che posso fare, altrimenti potrei fare uno zoom ancora più forte, devo regolarlo con la telecamera. Il problema sta che dopo diventa proprio tutto sfocato. Allora non si vede proprio una minchia, invece così, così almeno si riesce a vedere. Voilà. Questo è quello che... Cioè questo qua è l'effetto che normalmente fanno le comete quando vengono, che noi ci informiamo, no, che dobbiamo vedere una cometa. Voilà. Allora, logicamente questo qua è cielo di Roma. Io la cometa a Lisbona la vedevo nel senso opposto, perché questa cometa qui, questa io dico cometa, poi non so che cazzo è, la vedevo in questa posizione qui. Invece, stando a Roma, è ovvio che la vedo in questa posizione qua. Vabbè, cerco di trovare una risposta. Ciao orso bianco, spero che ti vedi adesso il video.